Musica Ci troviamo nelle colline di Pobullo e siamo immersi nella natura come si può vedere. Sono Alessandro, faccio l'allevatore. Questo in cui ci troviamo è uno dei principali siti di allevamento all'aperto, free range. La particolarità di questo allevamento sta proprio qui, nella parola free. Animali liberi, allevati liberi, in aree incontaminate come è qui. E soprattutto con un rapporto animale-terreno molto basso, in modo da rispettare le esigenze naturali dell'animale sia quelle dell'ambiente. Ed è per questo che nei nostri allevamenti bio poniamo il benessere degli animali al centro del nostro modo di allevare. In questo modo si elimina lo stress e l'animale cresce sereno e libero. Musica Ecco perché fare l'allevatore è davvero più che un mestiere. Nei nostri allevamenti bio free range pedrazzoli è un modo di vivere, un modo di pensare, una filosofia. Musica 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 Musica